Fondi europei, un treno da non perdere. Da qui l'incontro promosso ieri a Marina di Gioiosa Ionica dal locale circolo del Partito Democratico guidato dal giovane segretario Daniele Albanese. Nell'aprire il dibattito il giovane segretario ha messo in evidenza come negli anni ci siano stati dei ritardi nella programmazione di questi fondi a livello regionale. Si è perso troppo tempo riguardo i fondi comunitari. La programmazione 2014-2020 è sicuramente un'occasione da non perdere, un treno da non perdere perché ne va della reputazione della politica tutta. Senti, un'altra cosa. A Marina di Gioiosa vedo un PD in movimento dopo la sua nomina e altro. Dopo le varie lotte intestine, che situazione? Guarda, ho cercato di mettere da parte polemiche sterili. Infatti l'incontro di stasera ne è un esempio. Presenteremo un documento sulle linee generali scaturito dopo un lavoro dei professionisti che ci sono all'interno del nostro partito e che questo documento lo consegneremo all'amministrazione. Riguarderà il piano strutturale sulla Marina di Gioiosa che vogliamo. All'incontro che ha avuto come location nel lungomare cittadino era presente anche il capogruppo del PD nel Consiglio regionale Sebi Romeo il quale ha dichiarato come in Calabria bisogna scontrarsi con ritardi pluridecennali. E ha messo inoltre in evidenza come i fondi europei saranno al centro di un dibattito in Consiglio regionale il prossimo 31 agosto. La nuova agenda comunitaria sarà discussa in Consiglio e questo è un fatto fortemente innovativo per poi essere trasmessa una volta approvata a Bruxelles. Sarà un'agenda non onnicomprensiva ma invece attenta ai bisogni del territorio e che parla del protagonismo degli enti locali e delle realtà locali. Questo nuovo tipo di impostazione potrebbe dare un frutto diverso. Io vorrei partire da un concetto. È vero che Scopelliti non ha speso la gran parte dei fondi comunitari ma anche se lo avesse fatto quella spesa modellata su una proposta spezzatino, cioè della piazzetta, dell'iniziativa, della sagra e non dentro una strategia di sviluppo complessiva, strutturale, non avrebbe dato elementi di sviluppo credibili, veri, durevoli al nostro territorio. La Calabria invece ha bisogno di utilizzare l'agenda comunitaria in una strategia di sviluppo che parte dai bisogni del territorio che devono essere mediati dai corpi intermedi e dagli enti locali e quindi della valorizzazione di tutte le tipicità, le risorse, i beni che noi abbiamo. Questo è lo sforzo che stiamo facendo e sono abbastanza fiducioso. A proposito di territorio, la vedo molto presente nel territorio della Locrid, ci siamo incontrati qualche settimana fa proprio a Siderno. Per quanto riguarda invece il territorio della Locrid, soprattutto per quanto riguarda magari le tematiche ambientali, tanti discorsi che fanno i sindaci, incontri anche col Presidente, cosa possiamo dire al territorio? Possiamo dire due cose, con l'attivazione dei nuovi fondi sul dissesto idrogeologico Noi faremo tutta una programmazione molto attenta al territorio che parte dal concetto e dal principio di consumo zero e dalla valorizzazione di tutte le specificità che abbiamo nella Locride. La Locride è ricca di beni culturali, è ricca di beni paesaggistici, è una risorsa di mare e di montagna e quindi ha di fronte a sé una possibilità. Per noi è una sfida. Se la vinciamo saremo una classe dirigente capace e no a dire, se la perdiamo meriteremo di andare a casa. Io su questo sono molto netto. Nel suo intervento poi l'assessore regionale al lavoro Federica Roccisano ha messo in evidenza come sulla programmazione europea si auspicherà un ritorno alla legge 382 del 2000, la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi. Nel suo intervento poi l'assessore regionale al lavoro Federica Roccisano ha messo in evidenza come sulla programmazione europea occorra un ritorno alla 382 del 2000, una legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Finalmente dovremmo essere in grado di partire con questa nuova programmazione e dico finalmente perché i direttori generali che gestiscono il Fondo Sociale Europeo e il Fondo per lo Sviluppo Regionale sono di ritorno questa sera da Bruxelles che sono proprio andati per fare vedere l'ultima stesura del POR con le variazioni che abbiamo voluto apportare. Se è andato tutto bene dovremmo partire al più presto con la programmazione. Sarà una sfida importante anche perché partiamo con dei ritardi evidenti, con una programmazione che è dovuta essere modificata in itinere per delle osservazioni che ci ha mandato l'Unione Europea per cui anche noi stessi, noi stessori non vediamo l'ora di avere l'ok per poter partire perché ci sono tantissime cose da mettere in atto, dagli investimenti e l'innovazione, dall'occupazione giovanile, molti interventi che sto già pianificando nel settore sia scolastico che soprattutto nel sociale. Anche lo stesso piano di lotta alla povertà avrà un'importanza notevole per quello che riguarda la spesa del Fondo Sociale Europeo. Santa, lei ha parlato di due importanti tematiche, le famiglie quindi sul piano sociale e poi i giovani, i giovani e l'occupazione, abbiamo visto tante iniziative già in essere. Qualcosa ci può magari preannunciare o comunque la sua idea? Cioè nel senso io vorrei fare questo. No, noi sicuramente abbiamo già questa priorità che è quella di incrementare l'occupazione dei giovani e soprattutto fare in modo che i giovani non vadano via dalla Calabria. Fino a questa mattina ho avuto un incontro per la creazione di un sistema informativo perché la Regione Calabria ad oggi non è neanche dotata di un ufficio statistico quindi è facile per noi dire intendiamo bloccare il 10% dei giovani che stanno cercando di andare via perché ad oggi non sappiamo neanche quantificarlo se non da dati Istat e non da dati direttamente regionali. Per cui sicuramente un intervento per fare in modo che la fuga dei cervelli si blocchi e che la gente decide di rimanere in Calabria. Questo sarebbe davvero un grandissimo successo. E poi soprattutto quello di creare dei nuovi posti di lavoro tramite la creazione di cooperative, cooperative di lavoro, start-up. Quante start-up stanno nascendo grazie anche a degli strumenti e delle iniziative comunitarie sia per quello che riguarda l'innovazione pura che anche start-up mediche o nel campo della biotecnologia e quant'altro.